Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle nuove La Sportiva Akasha 2. L'iconica scarpa di La Sportiva si rinnova in tanti punti che adesso analizziamo insieme guardando nei pregi e difetti all'interno della recensione completa. Come primo punto analizziamo sempre il peso. La nuova Akasha 2, numero 42, pesa attorno ai 300 grammi. Nel mio 47 arriviamo solito 50 grammi in più, quindi 350 all'incirca. Iniziamo ad analizzarla partendo dalla suola. La suola è una Frixion Red. Frixion è un marchio proprietario di La Sportiva, le produce direttamente La Sportiva. E la Frixion Red in particolare è la mescola diciamo di metà gamma, quella che ha un buon grip ma allo stesso tempo ha anche una buona resistenza all'usura nel tempo. Infatti con questa scarpa ci ho fatto abbastanza chilometri e come potete vedere è praticamente quasi ancora nuova. È una scarpa che dà anche un ottimo grip soprattutto sia per quanto riguarda la mescola che per quanto riguarda anche la tassellatura. I tasselli sono alti 4 mm e sono posizionati apposta con la punta del tassello verso la punta dal mesopiede in poi per aiutarci durante la fase di spinta. Mentre con la punta rivolta verso il tallone, sempre da metà piede, indietro per aiutarci durante la frenata in discesa. Questa scarpa come potete vedere ha anche un'ulteriore tecnologia che ci aiuta a trasferire la nostra energia se siamo persone che corrono nel tallone. Infatti come potete vedere la suola ha anche un colore diverso nei punti in cui è colorata va ad aiutarci ad attutire naturalmente l'impatto col suolo sul tallone e va a trasferire l'energia sull'avampiede. Quindi nel momento in cui andiamo a fare noi la rullata completa del piede questa ci aiuterà a trasmettere energia all'avampiede e alla spinta. Ma come performa questa suola? Bene, diciamo sui terreni asciutti non ha nessun tipo di problema. Sui terreni bagnati ho avuto modo di poterla sperimentare per tanto tempo perché ho preso abbastanza acqua per prendere queste scarpe e finché parliamo di tracciolino, finché parliamo di comunque rocce, roccette eccetera ce la si cava. Quando iniziamo a trovare delle rocce un pochino più lisce essendo anche pensata per essere durevole non ha un grip così performante. Un aspetto che mi piace sempre sottolineare viste le ultime tendenze nel mondo del trail running è come potete vedere che la suola corre da tacco a punta e non ha punti esposti dell'intersuola. Questo garantisce un ottimo isolamento dal terreno anche dalle rocce. Si sentono le rocce nel senso che comunque abbiamo un buon feeling col terreno capiamo se si sta mettendo il piede su una radice, su una roccia eccetera ma non fa male cioè anche se corriamo per tanto tempo su delle rocce non avremo dolore alla pianta del piede. Passiamo ora all'intersuola un'intersuola col drop di 6 mm che è un drop classico per le scarpe da ultra non è né troppo alto né troppo basso e va a soddisfare una grandissima percentuale di ultra runner è soprattutto un'intersuola che mi è piaciuto perché ha delle leva iniettate all'interno che ne conferisce un'ottima ammortizzazione infatti è una scarpa pensata per le ultra ma anche una buona reattività per intenderci non è come le oca che quando mettiamo il piede sentiamo proprio il piede che affonda all'interno dell'intersuola qui l'ammortizzazione c'è ma il piede non va ad affondare quindi ha un buon rapporto tra ammortizzazione e reattività continuiamo con la nostra recensione parlando della tomaia ci alziamo e il primo punto che voglio analizzare è il puntale un puntale bello duro potete prendersi dentro nelle rocce nelle radici non avrete nessun tipo di problema e soprattutto il fascione bello largo non è solamente proprio sulla punta e parlando della tomaia qui troviamo due tecnologie diverse la tomaia possiamo dire che è distinta in due punti nella parte anteriore troviamo una classica tomaia a mesh con degli inserti plastici molto traspirante davvero molto traspirante quando l'ho bagnata si è asciugata molto velocemente poi invece nella parte superiore quella che va vicino ai lacci per intenderci abbiamo tutta una costruzione che parte direttamente dal fondo della scarpa dall'intersuola e che arriva fino all'altezza dei lacci sia da una parte sia dall'altra che della scarpa e questo da modo insieme poi ai lacci di cui ne parliamo dopo di avere un'allacciatura uniforme che stringe molto bene il piede come si suol dire ultimamente un'allacciatura a calzino arrivati a questo punto finiamo la descrizione della parte alta parlando del tallone il tallone è ben strutturato infatti anche se andiamo a correre su terreni particolarmente sconnessi non avremo problemi di svirgolamento di poter prendere qualche storta ma non è troppo rigido è un buon compromesso e soprattutto è molto bene imbottito quindi vi troverete molto bene anche su terreni un pochino più tecnici un pochino più cattivi ma tornando a parlare un attimo dei lacci visto che ve l'avevo accennato prima il laccio è cambiato rispetto alla versione precedente e qui come vi dicevo abbiamo un laccio che va a darci un comfort maggiore un laccio che ha in totale quattro vie passanti più la quinta superiore e che dire davvero si serra molto bene il laccio non tende ad aprirsi è un laccio fatto bene davvero mi è piaciuto molto dal punto di vista dell'allacciatura a questa scarpa e infine proprio per ultimo arriviamo a parlare della linguetta una linguetta bella imbottita una linguetta che svolge bene il suo lavoro non sentiamo la pressione dei lacci e non tende a muoversi mentre corriamo parlando un attimo dell'avampiede questa cascia tra tutte le sportive che ho provato penso che siano le scarpe che abbiano l'avampiede più generoso non sono a livelli di altri brand che proprio hanno un avampiede che è davvero enorme però rispetto a tutte le altre scarpe di la sportiva abbiamo provato le Caracal le Cyclone eccetera queste penso che siano quelle che hanno la parte ad avampiede più grande infatti io comprando il mio solito 47 non ho avuto problemi vabbè né di lunghezza ma nemmeno di avampiede quando il piede tende ad ingrossarsi durante salite molto lunghe la soletta interna è di Ortolite in particolare la monta è running e che dire io con Ortolite mi sono sempre trovato bene confermo le mie percezioni anche con questa soletta di Ortolite volendo è estraibile quindi potete cambiarla se voi non vi piace ma io in generale anche col piede bagnato non ho mai avuto nessun tipo di problema arriviamo alle conclusioni a chi consiglio questa scarpa e su quale terreno ve la consiglio allora diciamo che come terreni secondo me può andare bene un po' ovunque dalle strade di fondo valle fino anche all'alta montagna sul terreno un pochino tecnico non avrete tanti problemi utilizzarla un po' ovunque per chi la consiglio secondo me questa scarpa va bene dai runner meno esperti ai runner che camminano tanto anche perché questa scarpa è particolarmente efficace anche per il trekking ed è una scarpa che arriverai a consigliare fino agli atleti diciamo di media classifica per intenderci atleti che comunque magari in salita camminano abbastanza corrono poco corrono in discesa un po' sul piano sicuramente non ad atleti top e infine come vi ho citato prima questa scarpa va veramente bene anche per il trekking però da questo punto di vista ne parliamo in un altro video detto ciò ragazzi io nella speranza di essere stato esaurente ed esaustivo anche per questo video vi ringrazio per aver guardato anche questa recensione e noi ci vediamo alla prossima ciao